Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Augusta Regina delle Vittorie, O Sovrana del Cielo e della Terra, al cui nome si rallegrano i cieli e tremano gli abissi, O Regina gloriosa del Rosario, noi, devoti figli tuoi, raccolti in questo giorno, effondiamo gli affetti del nostro cuore e con confidenza di figli ti esprimiamo le nostre miserie. Dal trono di clemenza, dove siedi, Regina, volgi, O Maria, il tuo sguardo pietoso su di noi, sulle nostre famiglie, sull'Italia, sull'Europa, sul mondo. Ti prenda compassione degli affanni e dei travagli che amareggiano la nostra vita. Vedi, O Madre, quanti pericoli nell'anima e nel corpo, quante calamità ed afflizioni ci costringono. O Madre, implora per noi misericordia dal tuo Figlio Divino, e vinci con la clemenza il cuore dei peccatori. Sono nostri fratelli e figli tuoi che costano sangue al dolce Gesù e contristano il tuo sensibilissimo cuore. Mostrati a tutti quale sei, Regina di pace e di perdono. Ave, O Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. È vero che noi, per primi, benché tuoi figli, con i peccati torniamo a crocifiggere in cuor nostro Gesù e trafiggiamo nuovamente il tuo cuore. Lo confessiamo, siamo meritevoli dei più aspri castighi. Ma tu ricordati che sul Golgotha raccogliesti col sangue divino il testamento del Redentore Moribondo che ti dichiarava Madre nostra, Madre dei peccatori. Tu dunque, come Madre nostra, sei la nostra Avvocata, la nostra speranza. E noi, Gementi, stendiamo a te le mani supplichevoli, gridando misericordia. O Madre buona, abbi pietà di noi, delle anime nostre, delle nostre famiglie, dei nostri parenti, dei nostri amici, dei nostri defunti, soprattutto dei nostri nemici e di tanti che si dicono cristiani eppure offendono il cuore amabile del tuo figliolo. Pietà oggi imploriamo per le nazioni traviate, per tutta l'Europa, per tutto il mondo, perché pentito ritorni al tuo cuore. Misericordia per tutti, o Madre di misericordia. Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Degnati benevolmente, o Maria, di esaudirci. Gesù ha riposto nelle tue mani tutti i tesori delle sue grazie e delle sue misericordie. Tu siedi, coronata regina, alla destra del tuo figlio, splendente di gloria immortale su tutti i cori degli angeli. Tu distendi il tuo dominio per quanto sono distesi i cieli, e a te la terra e le creature tutte sono soggette. Tu sei l'Onnipotente per grazia. Tu dunque puoi aiutarci. Se tu non volessi aiutarci perché figli ingrati ed immeritevoli della tua protezione, non sapremmo a chi rivolgerci. Il tuo cuore di madre non permetterà di vedere noi i tuoi figli perduti. Il bambino che vediamo sulle tue ginocchia e la mistica corona che miriamo nella tua mano ci ispirano fiducia che saremo i sauditi. E noi confidiamo pienamente in te. Ci abbandoniamo come deboli figli tra le braccia della più tenera fra le madri. E oggi stesso da te aspettiamo le sospirate grazie. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Chiediamo la benedizione a Maria. Un'ultima grazia. Noi ora ti chiediamo, Regina, che non puoi negarci in questo giorno. Concedi a tutti noi l'amore tuo costante e in modo speciale la materna benedizione. Non ci staccheremo da te finché non ci avrai benedetti. Benedici, o Maria, in questo momento il Sommo Pontefice. Agli antichi splendori della tua corona, ai trionfi del tuo rosario, onde sei chiamata regina delle vittorie, aggiungi ancora questo, o Madre. Concedi il trionfo alla religione e la pace alla umana società. Benedici i nostri vescovi, i sacerdoti, e particolarmente tutti coloro che zelano l'onore del tuo santuario. Benedici, infine, tutti gli associati al tuo Tempio di Pompei, e quanti coltivano e promuovono la devozione al Santo Rosario. O Rosario benedetto di Maria, catena dolce che ci rannodi a Dio, vincolo di amore che ci unisci agli angeli, torre di salvezza negli assalti dell'inferno, porto sicuro nel comune naufragio, noi non ti lasceremo mai più. Tu ci sarai conforto nell'ora di agonia. A te l'ultimo bacio della vita che si spegne, e l'ultimo accento delle nostre labbra sarà il nome tuo, soave, o Regina del Rosario di Pompei, o Madre nostra cara, o Rifugio dei Peccatori, o Sovrana Consolatrice dei Mesti, sii ovunque benedetta, oggi e sempre, in terra e in cielo. Amen. Salve, Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra. Salve. A te ricorriamo, e sui figli di Eva. A te sospidiamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.